Termine del primo quarto qui al Palasport Agliercio di Mestre. Giacchetti dentro ancora per Islay, molto coinvolto ora dalla formazione veneziana. Rosselli usa molto bene il piede perno ed evita, schitta due punti, i primi due punti per lui. Ancora abituarsi a questo automatismo perché è un gesto diciamo quasi naturale sfiorare il pallone. Devono invece evitare questi tipi di situazioni. Tanto Rosselli da tre punti, non sbaglia e il capitano lascia subito il segno. Fa perdere secondi all'attacco avversario, l'over sta molto lontano. Si sono visti un po' i limiti offensivi di Montegrenaro in quest'ultima azione. Poca pazienza e invece grande lucidità e soprattutto mani buoni in casa veneziana. Assolutamente sì, time out doveroso da parte di coach Reca. Veramente non sono mai riusciti ad arrivare al ferro con un tiro pulito. Tutte le azioni molto affrettate, molte palle. Per Sakic che prova a girarsi, anzi non ce la fa nemmeno l'errore. Vitali ribalta per Peric, la finta di tiro. La palla che torna fuori per Rosselli. Da tre punti il capitano che davvero non ha sbagliato niente stasera. Veramente essenziale. Che c'è un terzo quarto da incorniciare per questo mal a Venezia. Assolutamente sì.